Onorare la memoria del passato recente e gettare lo sguardo verso un futuro di rinnovamento. Confesercenti Pesaro Urbino ha colto questa mattina l'ex segretario Confcommercio Davide Ipaso in qualità di nuovo responsabile sindacale Confesercenti. Una presentazione anticipata da un toccante momento dedicato alla memoria di Francesca Ruberti, recentemente scomparsa dopo che dal 2005 Francesca lavorò in Confesercenti come responsabile formazione CESCOT. Al ricordo della sua dedizione e professionalità è stata intitolata la nuova sala riunioni della sede che sarà adibita anche ad aula didattica dei corsi CESCOT. Un'aula dedicata fra l'applauso dei vertici confesercenti del presidente CESCOT Roberto Borgiani e della commozione dei familiari di Francesca con la mamma venuta appositamente da Roma. Francesca era una persona speciale, si è visto nella partecipazione alla cerimonia e siamo veramente contenti di onorarla, di onorare la sua memoria, anche perché Francesca è sempre con noi, è sempre stata con noi, continua a dispensarci dei gran consigli perché veramente lo faceva e sono molto contento di questo, sono molto contento di aver pensato insieme ai miei colleghi di intitolare quest'aula a lei. Dal ricordo di Francesca si è passati all'abbraccio a Davide Ipaso, nuovo responsabile sindacale inserito in un più ampio processo di rinnovamento di Confesercenti. Spero di portare tutta la professionalità e la conoscenza del territorio, la conoscenza del mondo e dell'associazione nel miglior modo possibile. Mi sono entrato a piccoli passi dentro sicuramente una nuova famiglia che mi ha accettato in maniera bellissima, mi ha fatto stare bene e volevo ringraziare la Confcommercio, comunque anche il direttore Varotti per ciò che mi ha insegnato negli anni, perché 29 anni di fianco a una persona che è molto brava nel territorio mi ha insegnato tanto. Ero arrivato a un punto della mia vita in cui avevo perso gli stimoli, non era depressione ma ho avuto momenti dei miei familiari molto pesanti che mi hanno sfiancato, avevo bisogno di ricaricarmi e adesso sono rientrato perché ho ricevuto tantissime attestate di stima da parte di operatori che mi chiedevano che cosa avevo intenzione di fare, se avevo voglia di rientrare un attimo in gioco e questo mi ha dato carica, la carica ce l'ho, sono pronto di nuovo a voltare un'altra pagina della mia vita rimanendo sempre in quel sistema che io adoro, quello del mondo dell'associazione e quello del mondo imprenditoriale. Ci porta innanzitutto l'esperienza, l'esperienza che ha maturato sul campo che con Fesercenti, ma io per primo vi ho già spiegato il rapporto di amicizia che ci lega ho potuto constatare in tanti anni di attività, di tanti anni di passeggiate insieme per il centro storico e non solo ho visto la professionalità di Davide, ho visto come lavora e sinceramente sono veramente molto fiero di averlo con noi anche perché, anche se viene da un altro mondo, da un'altra famiglia rispecchia tanto i valori di Fesercenti, quindi siamo assolutamente molto contenti e Davide ci darà quel tassello in più, ci darà quella mano in più per essere ancora più vicini agli operatori ed essere anche qualche volta critici, qualche volta in senso positivo, qualche volta in senso negativo con il mondo istituzionale.